Sta morendo l'ironia, cioè ci sono tantissime persone che non hanno più i codici per capire l'ironia. Io ricordo qualche anno fa, ero in un aeroporto, quella mattina Altan aveva fatto una bellissima vignetta, erano i periodi del vigile di quartiere, e c'era questo signore vestito di verde che diceva ci vuole il boia di quartiere. E io vedevo le persone che commentavano, ma no, ma Altan, ma non mi sono mai aspettato da Altan. Ma è ironia, è un modo di guardare la realtà in modo laterale, andatevi a leggere Dickens. Cioè, niente, non c'è più una capacità di...